Abbiamo un Polman, Andrea Raimondi, ma abbiamo soprattutto un Trubia, un Magnanelli, un La Sorsa, un Carpina pronti a dargli battaglia in 125, Moto4, Supermono, benvenuti al quarto appuntamento dei Trofei Moto Estate e siamo tutti carichi e pronti per poter vedere anche queste altre moto, poter gareggiare, competere in maniera limpida e cristallina come hanno sempre fatto in quel di Varano. Siamo pronti, carichi, 2350 metri di percorrenza per dare tanto gas a tra poco. Si schierano i nostri di partenza, finalmente le moto per quanto riguarda la 125, Moto4, Supermono, via! Partiti, ottimo lo spunto di Trubia, ne si mette davanti a tutti, accompagnato dalla Sorsa che cerca di avvicinarsi Raimondi e Magnanelli, i primi quattro cercheranno di darsela di santa ragione. Allora, al meglio dei dieci giri, intanto subito inquadrato Nicolò Garpina che partiva da una posizione particolarmente interessante, la quinta viene in questo caso scavalcato da un paio di moto, lo vediamo subito, ha avuto un buon inizio ma adesso si trova in sesta posizione, mentre lì davanti cercano già di accavallarsi, accatastarsi le moto. Vedo terzo Lorenzo La Sorsa che sta facendo davvero un campionato encomiabile davanti a tutti. Raimondi, Trubia, Magnanelli, La Sorsa è questa le prime posizioni, mentre vediamo i piloti che chiaramente cercano subito in maniera abbastanza enigmatica di prendere le loro posizioni, di provare a scappare. Mamma mia, Raimondi sta cercando già di fare un buon vuoto tra sé e Trubia che insegue in seconda posizione. Poi c'è Lorenzo La Sorsa, una delle piacevoli sorprese per quanto riguarda i trofei molto estate. La Sorsa con gli annazzi si sta contendendo la vittoria della sua classifica di competizione e intanto William Albani che cerca anche lui di inseguire. Partiva dall'undicesima posizione Albani, 125 per lui, scavalcato intanto e lui contro scavalca. Se le stanno dando in salta ragione lei in fondo con Muttoni, la Sorsa intanto inquadrato mentre sta cercando di mantenere la sua posizione, mentre sta battagliando e sta combattendo con piloti decisamente interessanti e trofei molto estate. Simone Talamonti, eccolo qua, inquadrato, partiva dalla settima posizione, sta cercando di rinculare, di risalire. Abbiamo visto con la 34 Talamonti stesso la Sorsa in quarta posizione, ha avuto un ottimo spunto. Simone Talamonti, la Sorsa lo sta iniziando a tampinare, a seguire, anche perché sta provando a strappargli la terza posizione. I primi due se ne sono andati con Ramonti che sta facendo una gara semplicemente perfetta. Trubia in seconda posizione e poi appunto Talamonti e la Sorsa che stanno cercando di avvicendarsi, a propinquarsi, avvicinarsi, usmarsi, perché no? Per prendersi la terza posizione, terzo giro completato, o meglio, terzo giro che inizia con Raimondi Magnanelli. Guardate lì, la Sorsa alle spalle di Talamonti. Talamonti che ha avuto davvero un grandissimo avvio, fermo che considerando che partiva da una settima posizione, che probabilmente non gli rendeva giustizia, anche perché aveva chiuso la qualifica in 1.17.5. E effettivamente sta andando molto più forte, inquadrati intanto anche altri piloti che passano da Rosati, Tuya, Tedesco, un po' tutti quanti. Intanto andiamo ad indugiare su Niccolò Carpina, che lo ripeto e ribadisco, partiva da una quinta posizione. Lui sì, che è un po' regredito per quanto riguarda la propria partenza. Probabilmente avevano qualcosa in più i piloti che lo affiancavano. Mentre qui davanti sto vedendo che la Sorsa perde qualche decimo, soprattutto nella parte iniziale di giro. E Talamonti riesce man mano a guadagnare decimi importanti. Ricordo che Lorenzo La Sorsa non combatte, non gareggia direttamente con Talamonti per la sua classifica di competizione, ma con Giannazzo, però c'è anche da dire che Talamonti si sta staccando. Ed effettivamente tra un po' compare l'app 4 su 10 e inizia a esserci una buona discrepanza. Per quanto riguarda i vari piloti, Raimondi sta facendo il vuoto, va 5 decimi più forte di Super Federico Trubia. E alle spalle Talamonti la Sorsa che continuano ad inseguirsi, o meglio è la Sorsa che insegue Talamonti. Ma in questo momento mi sembra questo frangente che Talamonti ne abbia davvero più di la Sorsa che gli riesca a stare davanti. Quando sono passati i 4 giri, lo sappiamo, sta diventando una competizione sempre più interessante. Quella che riguarda la 125, la Moto4 e la Super Mono, anche perché c'è una certa frastagliatura per quanto riguarda le varie competizioni singole. E Andrea Raimondi sta davvero matando letteralmente il circuito. Un circuito sul quale si sente proprio agio, lo ricordiamo, Varano, 5 e 6 agosto. Soprattutto l'ultimo appuntamento della Ast Dance, in quel di Cremona, il 23 e il 24 settembre. Dove lì sì che si decideranno tantissime delle situazioni più interessanti a livello di competizione. Mentre tra poco vediamo un'inquadratura interessante per quanto riguarda il quinto giro che sta per iniziare Andrea Raimondi. E Andrea Raimondi è totalmente on fire. Alle sue spalle li guardiamo passare anche il buon Trubia. E allora la Sorsa sta perdendo costantemente un decimino su Talamonti. Proprio perché alla Sorsa alle spalle qualcuno sta comparendo. E allora deve stare anche attento a difendersi da un eventuale attacco alle spalle. Lo ripeto, Alexi Annazio partiva dalla dodicesima, è un po' impelagato in situazioni che non spettano o che non vanno ad inficiare sulla prestazione della Sorsa. Però chiaramente a questo punto la Sorsa dice che ha la possibilità di provare a fare podio. Nonostante non sia la classifica mia di competizione, perché non provarci? Eccolo qua Lorenzo la Sorsa inquadrato. Un ragazzo davvero davvero d'oro con il quale abbiamo avuto modo di scambiare diverse chiacchere e che sta cercando di iniziare questo suo percorso. E voi lo sapete che i Trofei Motoestate sono un percorso di iniziazione effettivamente interessante. Mentre qui intanto c'è un trio che sta combattendo per posizioni di bassa levatura. Ma che sta dando sicuramente spettacolo. Raimondi, ah eccolo, questo è Raimondi che si gira, c'è qualche doppiato come glielo ha già compiuto. E il distacco è davvero siderale. Adesso tra Raimondi e Trubia. Trubia non lo troviamo più, non si vede più col suo motone verde, col Kawasaki. Stanno battagliando qui sicuramente per le posizioni un po' più basse. Ed effettivamente abbiamo Tedesco con Tuya che se le stanno dando di santa ragione per cercare di avvicendarsi anche a livello di classifica. Trubia completa in questo momento il doppio doppiaggio. Perdonatemi il gioco di parole quando siamo al sesto giro. dei dieci in quel di Varano, settimo giro, tantissimi doppiati in questo momento. Ed è una situazione di classifica che però appare abbastanza focalizzata su quello che avevamo detto. Con un ottimo Raimondi che continua a rimanere davanti. Trubia e Talamonti e la Sorsa che stanno provando in qualche maniera. Iannazzo in questo momento si trova in ottava posizione. Sono sempre molto vicini, lo ripeto. Raimondi e Trubia che sono quelli che stanno dando vita forse al duello più interessante in pista. Anche perché Talamonti ha provato a scappare una marea di volte. Ma è rimasto sempre lì. E la Sorsa è lì che insegue. Ottavo Iannazzo, intanto ha inquadrato William Albani che completa il suo settimo giro. Anche perché tra poco probabilmente comparirà all'app 8 su 10. E a quel punto ci avviciniamo alla fine di una gara che non ha avuto particolari sussulti da questo punto di vista per quanto concerne la gara. Però effettivamente qualcosa ce l'ha dato soprattutto per i pilota in testa che è Andrea Raimondi. E soprattutto per Federico Trubia è sempre concentrato molto sul pezzo, un fight da questo punto di vista. Non ha mollato e dietro si stanno, si sono avvicinati in maniera totale in questo momento Talamonti e la Sorsa. E allora chissà che la Sorsa non ci provi fino alla fine. Perché adesso mancano due giri e perché la Sorsa lo ha praticamente preso. È stato un gioco ed elastico. Prima si è preso un 5-6 decimi di gap che sono arrivati addirittura ad un secondo ad un certo punto. Il buon Talamonti, adesso la Sorsa addirittura cerca l'ingresso esterno. Vediamo se passa, passa Lorenzo la Sorsa. Vediamo se Talamonti cerca di rispondere. Le inquadrature vanno poi su altri piloti. Intanto andiamo ad indugiare su quella che è una sfida veramente interessantissima. Tra Simone e Talamonti che si è ripreso la posizione su Lorenzo la Sorsa. 9 su 10. E questa è una sfida che ce la portiamo, ce la trasciniamo. Fino alla fine i due si stanno inevitabilmente divertendo. Si stanno inevitabilmente sfidando in quella che è una bellissima gara, bellissima sfida. Tra due piloti che hanno fatto davvero la differenza non soltanto su questo circuito ma in generale all'interno di queste competizioni. Sin dall'inizio, sin dal primo appuntamento in quel di Varano. E questa sarà un po' la chiusura per quanto riguarda il circuito di Varano. Ci rivedremo poi l'anno prossimo. Sempre qui, di solito si parte sempre da qui. C'è sempre una partenza, c'è sempre una fine. La fine è quella del Cremona Circuit. La partenza è quella di Varano. Ma oggi ancora è da scrivere il futuro. Per quanto riguarda questa quarta competizione, per questa quarto round di Trofei Motoestate, la Sorsa non molla. Un giro e mezzo alla fine. Talamonti nemmeno vuole tenersi la prima posizione. Raimondi con la pipetta, passa con la pipetta. Il buon Andrea Raimondi e questo è il last lap. Tra un po' vediamo Federico Trubia. Che passa anche lui, che è affaccendato con qualche doppiato. E allora, eccoli qui, i due che continuano a darseli di santa ragione. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Che spettacolo, eccolo qua. Con la 121 Federico Trubia, che passa. E continua a disegnare le proprie curve con un certo tipo di eleganza. Con un certo tipo di impeto. Con un certo tipo di peso. Super Federico Trubia. Sta anche lui facendo un ottimo campionato. Sta dando anche lui un certo tipo di continuità a quello che era stato l'anno scorso. Ed effettivamente ci sono diversi pelotti interessati. Bandiera, scacchi, vince. Super Andrea Raimondi. Manina in alto per Andrea Raimondi. Che vince. E qualcun altro sta alzando anche lui la mano. Quello lì Raimondi. Che vince. Passa nemmeno impennando. Federico Trubia. Molto tranquillo in seconda posizione. E poi tutti gli altri. Che vince. Che vince. Che vince. Che vince. Che vince. Che vince.